Musica Presidente Crusetto inizia con l'onorevole Monica Cacciaburro una serie di incontri con deputati senatori della provincia di Cuneo proprio per tenere un filo diretto con loro sulle tematiche della provincia di Cuneo e soprattutto delle imprese che in questo momento vivono comunque delle difficoltà oggettive nella gestione dei finanziamenti legati al bonus, ai super bonus e anche con questa pesante burocrazia che continua a diventare assillante per ognuno di loro. Sì abbiamo deciso di partire con questa sera in quello che saranno degli incontri per stringere ancora di più quella che è una collaborazione che oramai da tanti anni il sistema confartigianato porta avanti con quelli che sono i nostri rappresentanti sul sistema romano quindi in Parlamento. Con questa sera vogliamo evidenziare quelle che sono le peculiarità di un'associazione di categoria con quasi 9.000 iscritti presente su tutto il territorio e che fa del territorio il proprio punto di esistenza. Quindi questa sera vogliamo cercare di anche offrire 9.000 imprese a quelli che saranno i nostri e che sono i nostri rappresentanti su Roma per cercare di ogni tanto anche ricordarsi battendo i pugni per quelle che sono delle esigenze importanti del nostro territorio. primis in tutti quelli legati non solo a questo territorio ma legato a tutta l'Italia dei bonus legati a questo fantomatico e famoso oramai 110 che comunque ha lasciato a metà strada nuovamente con un cambio di impostazione tante aziende la riforma del fisco e soprattutto quelle che sono delle tematiche vicine a questo territorio il digital divide il problema importante delle infrastrutture ci auguriamo sulla Cuneo Asti di essere arrivati quasi alla fine ma sono tutte le altre grandi opere che continuano a mancare insomma un momento di partenza un momento di confronto un confronto onesto e serio che da sempre confartigianato vuole portare avanti e porterà sempre avanti con i nostri rappresentanti sul Parlamento. Onorevole, l'incontro con Confartigianato è l'incontro con il mondo dell'imprenditoria cunese anche perché qui è la casa di ben 8500 imprese. Certo, è un incontro al quale sono venuta con molto piacere e con molto entusiasmo anche perché in qualche modo quella che è l'attività istituzionale deve essere a servizio di queste imprese nel legiferare e creare e mettere a disposizione degli strumenti che possano mantenere, sostenere, fortificare e anche far crescere questa capacità straordinaria che hanno le imprese artigianali della nostra provincia. Confartigianato ha lanciato questo messaggio proprio a voi deputati senatori di incontrarsi periodicamente per affrontare le tematiche del territorio e anche i work in progress, insomma come si va avanti su certi piani riguardo a progetti che possono servire ovviamente alle imprese ma anche ai cittadini. Uno di questi è il problema più di lungo corso della provincia di Cuneo è quello della viabilità appunto e qui ancora una volta si parla di un asti Cuneo che si attende, di cui si attende la fine e anche di dei trafori del Tenda, di Armocantarana, della Maddalena. Insomma abbiamo veramente una necessità di chiudere delle partite e riaprire al contrario le porte verso il resto d'Europa. Allora intanto per quello che riguarda l'iniziativa programmata di fare questi incontri periodicamente sul territorio con Confartigianato io credo che sia una bella iniziativa perché ci tiene sempre in diretto collegamento con quelle che sono le procedure, i processi che a livello istituzionale si portano avanti, quelle che rimangono delle criticità e work in progress. passo dopo passo si può sempre migliorare per formare quelle che sono le situazioni da mettere in campo. Per quello che riguarda la viabilità effettivamente abbiamo perso molto 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 tempo e siamo a rincorrere dei progetti come dicevi tu bene Daniela che risalgono anche a 20 anni fa. e questa la dice lunga su quanto lo scollamento delle opere necessarie su un territorio e la temporalità con la quale vengono queste esigenze calate sul territorio sia lontanissima rispetto ai bisogni e che nel frattempo possono anche modificarsi. io ricordo rispetto alla circovalazione di De Monte piuttosto che al balico della Maddalena adesso c'è anche l'altro problema importante delle ponte dell'Olla perché per l'accesso a quella valle quel ponte è davvero determinante. Ma poi anche quello che era tutto il progetto a Sticuneo collegata con quello che era il Mercantur. Oggi si parla di Armo Cantarana. Ecco io credo che le esigenze si modificano nel tempo. Noi abbiamo bisogno anche per la straordinaria occasione di essere una provincia a ridosso della Liguria e della parte francese di avere degli strumenti che ci rendano operativi anche su quei mercati. Su quei mercati ma anche perché voi io anche da un comune piccolissimo dove faccio il sindaco ci sono degli artigiani che lavorano e collaborano con tutte le aziende che ci sono oltre Alpe. E quindi questi accessi sono assolutamente determinanti. Quando si parla di personaggi che vanno a Roma per rappresentare il territorio spesso abbiamo l'abitudine di dire sì ma devono mantenere i rapporti con il territorio di provenienza. Ecco questo ultimamente negli ultimi anni scorsi è sembrato un po' meno essere evidente. Con Confartigianato si sta cercando proprio di riallacciarli questi rapporti. Cosa ne pensi? Io sono di una porta aperta. Soltanto attraverso. Noi non rappresentiamo un territorio ma per poterlo rappresentare al meglio dobbiamo conoscerlo e conoscere nel dettaglio quelli che sono i processi che governano qualsiasi associazione di categoria o qualsiasi tipologia di lavoro per quello che riguarda gli enti. Solo conoscendo un processo si possono mettere in campo delle misure di governo che lo possano aiutare semplificandolo oppure calando a terra quelle che sono le strutture, le infrastrutture, i processi normativi che possano semplificare e aiutare sia nell'attività quotidiana ma anche a migliorarsi per poter crescere. Qui siamo anche nella casa dell'edilizia perché la metà delle imprese che lavorano sul territorio della provincia di Cuneo sono del settore costruzioni. Bonus, ecco questi bonus, super bonus hanno creato tanti problemi. Sono stati modificati più di 200 volte quindi le imprese hanno ovviamente delle difficoltà a gestire il presente avendo magari fatto investimenti precedenti e nel frattempo è cambiata la normativa. Ecco questo è proprio l'esempio plastico di quanto un'idea che potrebbe essere un'opportunità straordinaria per tutto il territorio nazionale e non solo, possa diventare ahimè invece uno strumento dove adesso ci sono delle difficoltà estreme e tante aziende che rischiano davvero di fallire o comunque di non farcela e stanno facendo fatica. Perché quando uno strumento si cala a terra vanno considerati tutti gli elementi che lo devono governare e tutti i risvolti che quello determina sul procedimento e sui processi. Le risorse ahimè destinate a quello erano molto più basse rispetto a quella che è stata la richiesta questa richiesta così impennata ha fatto sì che anche i prezzi li evitassero è diventato uno strumento del tutto fuori controllo al quale purtroppo questo governo ha dovuto sicuramente mettere un freno per bloccare tutto quello che sarebbe potuto succedere ancora in negativo e al tempo stesso si sta cercando di trovare soluzioni per quell'incagliamento di questi crediti che nessuno vuole più. E questo non significa che si bloccherà il meccanismo per i bonus ma certamente devono essere bonus tarati bene sui processi, sulle aziende e su quelli che saranno gli operatori che dovranno andarli a recepire. Perché davvero anche i privati che si sono affidati a questa cosa strana perché uno dice mi ristrutturo la casa e ci guadagno pure era un meccanismo perverso sicuramente che faceva illudere, sognare e sperare ma che adesso sta determinando dei problemi non da poco. Questo è proprio l'esempio della politica che quando mette uno strumento in campo che non è l'abito perfezionatamente calato sulle esigenze di quella filiera crea poi anziché delle opportunità dei problemi e anche veramente quelle preoccupazioni che oggi sono di tante aziende ma di tanti cittadini. Onorevole, il PNRR qualcuno lo vede come una manna che sta cadendo dal cielo abbiamo i progetti giusti per poterno usufruire? Dipende, perché questo non posso dire che tutti sono giusti. È sicuramente un'occasione perché sono comunque soldi a debito e questo lo si diceva anche prima e soprattutto non devono essere visti come spendere per spendere ma una spesa che faccia investimento e faccia crescita che generi poi occupazione, lavoro, impresa. Quando sia gli enti che tutte le aziende utilizzano questo strumento con questa finalità ma oggettivamente calata sulle realtà di oggi allora sicuramente possiamo invertire un trend. Per quello che riguarda invece quei progetti nel cassetto, vecchi e quant'altro che sicuramente possono magari accedere a queste risorse ma non creano poi quel ritorno e non generano quella virtuosità successiva allora secondo me non sono investiti bene però dipende da caso a caso. Io credo che nella provincia di Cuneo per quella che è la laboriosità e il saper fare che non è mai stato messo in discussione e che si faceva anche senza tutte queste risorse questa occasione far fare ancora meglio a tutte le imprese del territorio che già sanno e già hanno lavorato sempre per il meglio. Grazie a tutti.